A Piazza Caribaldi oggi abbiamo portato la nostra Zoe e ha trovato anche una famiglia, grazie a Daniela che poi è la stessa anche del ristorante, come si chiama il ristorante? Il Canto del Mare, quindi il vostro ringraziamento è andare a mangiare un giorno al Canto del Mare, via Roma 123 a Terracina, così pizza, forno a legna, carne e pesce, venite numerosi Venite in tanti e vedete anche Zoe perché Zoe ha trovato una casa grazie a Daniela, è una mezza missione compiuta davanti al Santissimo Salvatore Piazza Caribaldi, la nostra Zoe ha trovato casa